salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che penso proprio che metterò in entrambi i miei canali principali per chi non lo sapesse ho aperto un canale ASMR che si chiama jellyfish ASMR ovviamente non metterò questo video o la gente potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di iscriversi ma volevo dire giusto due parole su quello che state per ascoltare non so se ci sarà una seconda parte se ci sarà la metterò per il momento vi metto due brani di una serata benefica non so se riuscirò a recuperare gli altri due per l'apertura certo l'apertura per l'apertura di un emporio solidale a grosseto buon ascolto grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.